Scopriamo la carriera di Lorenzo Fajon United Il nuovo Ronaldo Vai Riterisco subito Andiamo all'altra scuola Vai subito da Holland Fai la panchina però bro Eh vabbè Meglio la panchina ma hai soldi in tasca Ancora City Ma sai che vado in Croazia per le croate? Ok In Francia Vado in Croazia Rimano in Croazia Ultimi tre anni C'è il Tavigo Rimaniamo in Croazia C'è il mare, c'è il mare Andiamo al mare Ok Ultime due squadre Vai in Germania? Per due birrette Vai Due birre in Germania Ultima squadra dopo il ritiro E torna Allo United Torna allo United E poi allenerai La Salernita Non lo ricordo